Una preghiera per i tanti cristiani perseguitati in tante nazioni perché siano riconosciuti i loro diritti alla libertà religiosa e onorata alla loro dignità dei figli di Dio, ma anche per tutti i fratelli e le sorelle. E quanti soffrono la mancanza di un pezzo di pane a causa della povertà sempre più diffusa. Questi due gli argomenti toccati dall'Arcivescovo di Napoli, il Cardiano Crescento Sepe, nel corso della sua omelia per la celebrazione della festa dell'Assunta, cerimonia importante per Napoli, la cui cattedrale fu nel 1314 solennemente dedicata alla Madonna dell'Assunta, d'opera dell'Arcivescovo Umberto d'Ormon. La dedica fu confermata nella consacrazione della chiesa, avvenuta il 28 aprile del 1644. Il Cardinale Sepe, nell'Omelia, ha ricordato l'assunzione in cielo di Maria, che ha accolto la parola di Dio e gioiosamente la messa in pratica, vivendo rivolta al suo figlio e adempiendo così la sua missione. Grazie.